Non c'è il dubbio che nel passato Sansevero è stato un esempio per tutta la Puglia, per i dati di raccolta differenziata, di percentuali molto alte e di risultati che sono stati esempio portati anche da Lega Ambiente in convegne anche a livello nazionale. È chiaro che oggi purtroppo tutti gli sforzi del passato vengono ormai mandati in fumo da una politica amministrativa che è finalizzata a distruggere tutto quello che è stato costruito negli anni. Sansevero capofila di un ambito territoriale dell'Alto Tavoliere insieme ad altri comuni ha elaborato un regolamento ai sensi della normativa regionale per gestire in maniera più programmatica, più razionale il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti insieme ad altri comuni ed è comunque un'indicazione della norma regionale. Bene, quello che succede oggi è l'ennesima figuraccia della città di Sansevero come le figure che abbiamo fatto grazie a Damone, Emilio ed Emiliano a livello nazionale con striscia alla notizia sul caso del programma di mandato copiato dal comune di Bastia Umbra. L'ennesima figuraccia che ci porta a essere commissariati, pensate il comune capofila dell'Auro Foggia 4, commissariato sull'adozione del regolamento per la carta dei servizi appunto dei rifiuti solidi urbani, quindi per l'igiene urbana. È uno scandalo su cui non possiamo stare in silenzio, abbiamo anche accusato colleghi della minoranza che su questo argomento sono stati soccorso e sono stati la stampella della maggioranza. Crediamo che dietro ci sia una strategia finalizzata a favorire l'AMIU, l'azienda barese molto amica del assessore Emiliano, un'azienda che è riuscita a raggiungere solo il 10% di differenziata del comune di Bari, mentre come sappiamo durante l'amministrazione centrodestra targata Savino Sansevero è giunta fino al 65%. Nen soli 6-7 mesi sono riusciti questi signori a perdere 20 punti percentuali e che vorrà dire anche il rischio di aumento della tassa sui rifiuti.